ciao eccoci con un nuovo video oggi andremo a trattare sempre con questa trattazione un po' digitale in cui scrivo sull'ipad sostanzialmente non mi faccio inquadrare non mi inquadro in faccia ma comunque così puoi seguire più tranquillamente il discorso che faccio visto che servono comunque disegni o formule quindi penso sia più comodo per tutti così oggi andiamo a trattare l'argomento dei sistemi miltoniani io sono una particolare classe di sistemi dinamici che si vedono molto spesso nel campo della fisica matematica o nel campo della meccanica classica nel momento in cui la si va a trattare in maniera un po più approfondita diciamo questi sistemi miltoniani in realtà si possono definire su delle strutture molto complicate su delle strutture geometriche complicate intendo e hanno moltissime proprietà interessanti soprattutto da un punto di vista della geometria che descrivono e che li descrivono oggi però andremo a limitarci a descriverli comunque in una situazione interessante che è quella del dello spazio euclideo quindi andiamo a vedere a lavorare su r alla 2n infatti una proprietà fondamentale dei sistemi miltoniani è che sono definiti su spazi a dimensione pari il perché questo sia vero non è proprio così immediato da vedere ma comunque magari potremmo fare vedere questo risultato in un'altra situazione in un altro video se può interessarti comunque per il momento se non hai mai visto questo questo argomento prendi un po per buono il fatto che si lavora su uno spazio a dimensione pari r alla 2n con n maggiore uguale di 1 e lo descriviamo con delle coordinate q1 qn più 1 pn questa è una scelta arbitraria di lettere però in realtà nel campo della fisica soprattutto queste hanno anche un loro significato fisico che in realtà nel campo della teoria miltoniana va un po perdersi infatti in linea proprio teorica e di denominazione le variabili qi stanno per le coordinate sullo spazio appunto di configurazione di un sistema dinamico nel caso si riferisca proprio un corpo rigido delle particelle comunque mentre pi le p1 pn stanno per i momenti coniugati associati a queste variabili qui in realtà nel campo della teoria miltoniana differentemente da quella lagrangiana per esempio il significato fisico di momento e di coordinata va un po perdersi e questo semplicemente perché come vedremo i sistemi miltoniani possono essere preservati comunque nella loro natura anche attraverso cambi di coordinate abbastanza generali e si può definire un cambio di coordinate molto semplice che vedremo dopo che preserva questa natura di sistema miltoniano ma che non fa altro che a meno di un segno scambiare la piccola q e la cucola p e quindi siccome il sistema descritta comunque lo stesso alla fine e quello che facciamo non è altro che scambiare p e q si vede che abbastanza irrilevante il significato di momento e di coordinata in questa situazione in questo frangente diciamo ma andiamo ora a definire cosa si intende per sistema miltoniano beh questo è un sistema dinamico che viene definito da una funzione scalare h che va da u da w ad r questa funzione si dice emiltoniana ok w non è altro che un sotto insieme di r alla 2n che può essere considerato aperto e aperto se non sai cosa vuol dire in linea proprio intuitiva vuol dire che per ogni punto al suo interno puoi disegnare un cerchietto una pallina attorno ad esso che ancora con di raggio abbastanza piccolo che comunque rimanga dentro l'insieme w questo è importante per definire non solo delle coordinate che chiamiamo appunto p1 pn q1 qn ma anche per poter calcolare le derivate rispetto a tutte le variabili ovvero rispetto a tutte le direzioni canoniche del dello spazio clideo perché così siamo certi che essendo la derivata definita come al solito come limite del rapporto incrementale ma essendo la derivata di una funzione definita su più variabili dobbiamo andare a avvicinarci diciamo al punto in cui calcoliamo la derivata da più direzioni e quindi per non aver problemi di uscire dall'insieme in cui è definito il problema il sistema dobbiamo prendere l'insieme aperto così al limite comunque staremo dentro a w comunque questa è una cosa un po' più tecnica ma non serve per andare avanti e questo sistema dinamico è definito tramite le seguenti equazioni differenziali che sono dette equazioni emiltoniane dopo andremo a definire invece il sistema tramite un campo vettoriale come abbiamo già visto in un altro video che se non non è ancora visto ti consiglio di cercarlo lo trovi o in generale sul canale come cos'è un campo vettoriale ma anche più in particolare puoi cercare nella playlist in cui si trova già questo video del playlist sui sistemi dinamici e fisica matematica e c'è proprio questo video di cui ti parlo e queste equazioni miltoniane hanno questa forma caratteristica ovvero sono per ogni variabile pi quindi i che va da 1 a n l'equazione associata è pi punto quindi la derivata rispetto al tempo di pi è uguale a meno la derivata rispetto a cui di h e qui è invece la derivata rispetto a pi di h quindi vedi che con una sola funzione scalare tra l'altro h abbiamo definito un intero sistema dinamico con 2 n variabili ok quindi di sicuro questa struttura compatta dei sistemi emiltoniani è un qualcosa che attira che lo rende in qualche modo più semplice poi chiaramente da qui si può andare oltre si può studiare l'integrabilità di questi sistemi e si può fare un sacco di cose diciamo che si possono fare con questi sistemi e sono anche spesso usati come ho detto nel campo della fisica e infatti in questo esempio che ti mostro adesso è la funzione emiltoniana che in questo caso è con n uguale a 1 infatti lavoriamo su r2 sul piano euclideo può essere ricondotta in qualche modo alla dinamica dell'oscillatore armonico della molla e in questo caso infatti l'emiltoniana che otteniamo è di questa forma qui p quadro più q quadro fratto 2 ora non sto qui a derivarti perché l'emiltoniana è di questa forma se può interessarti ancora un video su questo argomento lasciami pure un commento che posso pensare qualcosa più avanti che non è troppo complicata come come cosa diciamo quindi com'è che ricaviamo le equazioni del sistema dinamico associato beh non è troppo complicato perché basta prendere la derivata di h rispetto a q e rispetto a p come abbiamo visto qui ora i va da 1 a 1 perché n uguale a 1 quindi non è un problema la calcoliamo è q e p sono q e p e quindi le equazioni miltoniane sono di questa forma ok giusto per puntualizzare il tutto ci tengo a dire che in realtà questa può essere riscritta in una sola equazione perché se noi scriviamo che q è meno p punto dalla prima ok e sostituiamo q nella seconda otteniamo che meno p due punti è uguale a p e questa è in qualche ha fatto un casino questa è in qualche modo riconducibile all'equazione dell'oscillatore armonico della molla con k costante elastica uguale a 1 ok quindi se hai già visto questo argomento in fisica 1 o anche alle superiori saprai che bene o male questa è la struttura dell'equazione dell'oscillatore armonico e quindi qualche legame comunque intuibile anche se in un certo senso le miltoniane è un po piovuta dal cielo ma comunque si può ricavare tranquillamente questa struttura emiltoniana del sistema andiamo ora invece a un altro elemento fondamentale nel campo della teoria dei sistemi miltoniani infatti questi sono interessanti non solo perché sono descrivibili solo da una funzione scalare h ma anche perché questa natura questa peculiarità di struttura emiltoniana dei sistemi si preserva anche se andiamo a fare delle trasformazioni di coordinate dei cambi di variabile che non sono così restrittivi dopo tutto adesso infatti andrò a definire una classe di trasformazioni che è molto ampia e non andremo ad addentrarci troppo nei dettagli ma ancora se può interessarti fammelo sapere che comunque è un argomento che mi interessa e sto studiando anche in modi più o meno diversi per la tesi quindi di sicuro mi fa piacere parlarne così consolido un po quello che vedo e questi questa classe di trasformazioni appunto molto ampia permette di preservare la natura emiltoniana del sistema e quindi tutte le sue buone proprietà geometriche e di possibile facilità di integrare l'equazione ok ora cos'è questa trasformazione beh intanto prima di passare trasformazioni mi ero dimenticato di dirti una cosa che ancora una cosa un po tecnica ma comunque questo è il campo vettoriale emiltoniano x con h che è definito come abbiamo visto nel video sui sistemi sui campi vettoriali ovvero semplicemente prendendo le componenti che sono qua a destra nella nell'equazione ok queste qua andiamo a metterle qua dentro e definiamo quindi il nostro campo vettoriale ok ora questa tra questo vettore qui può essere riscritto come nella forma matrice per vettore ok matrice per vettore in questa forma qua dove la matrice è 0 identità meno l'identità 0 dove 0 è una matrice di n per n entrate tutte 0 e idn è la matrice identità n per n ok questa è anche una matrice che ha un nome e genera diciamo un enorme campo di studi nella matematica quello della geometria simplettica o dell'algebra lineare simplettica e quindi da qua si potrebbe spaziare molto ma comunque non lo faremo e sostanzialmente quello che andiamo a fare è moltiplicare questa matrice j per questo gradiente della funzione h e otteniamo come vedi quello che c'è qua a sinistra ok ma questo è abbastanza rilevante vabbè per quello che andiamo a fare quantomeno se no è molto utile perché è proprio questa la struttura che è descritta e definita nel nostro sistema e permette di avere grandissime proprietà geometriche nel campo dei sistemi miltoniani in particolare la conservazione delle aree ma questo magari possiamo di questo magari possiamo parlarne su sire un'altra volta perché comunque un argomento anche visivamente interessante di cui possiamo parlare e vabbè questa matrice j ha alcune proprietà interessanti per esempio il suo quadrato è meno l'identità chiaramente 2n per 2n e questo è anche il motivo per cui essa viene chiamata matrice simplettica infatti simplettico ha una radice nella sua nomenclatura diciamo che vuol dire complex complessa e se tu ci fai caso e conosci numeri complessi saprai che se noi chiamiamo i di identità l'unità immaginaria i alla seconda è uguale a meno 1 quindi diciamo che c'è in qualche modo questo legame unità immaginaria e matrice simplettica j ecco perché viene fuori questo nome sostanzialmente e poi vabbè da questa ricaviamo anche che j è trasposto e j alla meno 1 e anche meno j ok l'opposto di j ma comunque vabbè queste sono solo proprietà per il momento vediamo ora invece che cos'è una trasformazione canonica qui chiaramente nel video sto buttando tanti concetti giusto per evidenziare alcune delle proprietà che rendono questi sistemi interessanti capisco benissimo che se è la prima volta che vedi questi argomenti sono forse troppe cose ma piuttosto di spezzare il tutto in video più piccoli ho deciso di farne uno unico che è un po' introduttivo e poi su ognuno di questi argomenti si vede un po' di interesse vado magari a fare un video a parte un po' più breve ma comunque dritto al punto diciamo per esempio le trasformazioni canoniche si possono fare molti esempi anche interessanti fisicamente e quindi potremmo parlarne in un video apposito comunque una trasformazione canonica in linea intuitiva nel caso di trasformazioni che vanno dal r2 r2 nel piano si parla per esempio di trasformazioni che preservano l'area ok quindi magari cambia la dominio di interesse la superficie di interesse in forma però l'area si conserva queste sono trasformazioni che vanno da dall'aperto w all'aperto w tilde quindi da pq in p tilde q tilde che hanno una particolare proprietà ovvero preservano l'area nel caso due dimensionale e più in generale preservano la matrice j sostanzialmente ovvero la jacobiana di fi che se conosci sai che la matrice delle derivate parziali di fi rispetto a p e q per j per la trasposta della jacobiana è ancora j quindi in linea intuitiva applicare il cambio di coordinate fi non va a rovinare la struttura del sistema ok questa è proprio l'intuizione la matematica dietro non è proprio così immediata ma comunque questa è l'idea quantomeno vediamo magari un esempio che di sicuro può chiarire che è esattamente quello di cui vi parlavo prima ovvero quello che fa capire che il nome momento associato alla variabile p e coordinata alla variabile q è proprio solo un nome perché nella meccanica nella dinamica emiltoniana si va a perdere questo legame fisico tra momenti e coordinate ok infatti se definiamo fi di pq che è p tilde q tilde e non è altro che un cambio un'inversione di coordinate quindi al posto di p mettiamo meno q dal posto di p di q mettiamo p dove questo meno è proprio dovuto al meno che c'è nella matrice j è l'unico motivo per cui c'è sostanzialmente abbiamo che la jacobiana è 0 meno 1 1 0 perché prima deriviamo rispetto a p e la derivata rispetto a p di meno q è 0 la derivata rispetto a q di meno q è meno 1 e sotto otteniamo 1 0 facendo la trasposta e qua ho scritto semplicemente il prodotto e vediamo che la jacobiana di fi per j fa 1 0 0 1 l'identità e poi se moltiplichiamo questa per 0 1 meno 1 0 che in realtà è esattamente la matrice simplettica j otteniamo ancora j come volevamo e quindi questa è una trasformazione canonica ok ora perché possono essere interessanti queste trasformazioni canoniche o simplettiche come si vogliono chiamare beh lo sono per questo teorema ok in particolare nel campo della dinamica emiltoniana sono importanti per questo teorema non ci soffermeremo ancora troppo su questo ma a me interessa che di questo passi l'idea l'idea è che i sistemi emiltoniani sistemi e quindi i campi vettoriali emiltoniani sono invarianti in struttura rispetto a queste trasformazioni canoniche cosa vuol dire che se noi trasformiamo un campo emiltoniano tramite una trasformazione canonica otteniamo ancora un campo emiltoniano chiaramente la funzione h tilde di cui questa è emiltoniano sarà diversa ok però è proprio questo che c'è scritto in questo teorema quindi se definiamo una trasformazione canonica fi che manda pq in p tilde q tilde allora l'emiltoniana che otteniamo tramite il cambio di coordinate fi di pq che è questa qui quindi qua ho scritto h di fi di pq così come input gli si può dare pq che è esattamente la coppia di variabili da cui h dipende direttamente ma fi di pq non è altro che p tilde che dipende da pq e q tilde che dipende da pq e quindi rinominando il tutto considerando p tilde e q tilde variabili abbiamo appunto questa nuova funzione emiltoniana h tilde che dipende da cosa la p tilde e q tilde e la cosa interessante non è tanto questa trasformazione che vabbè ci dice poco è che se noi troviamo il campo vettoriale che si ottiene applicando la trasformazione fi al campo emiltoniano xh che è questa qui questa cosa in bianco che ho scritto otteniamo un altro campo vettoriale che è x che ha una proprietà fondamentale ovvero questo adesso lo scrivo che mi ero dimenticato questo è esattamente x di h tilde di p tilde q tilde quindi il campo che otteniamo tramite questa trasformazione è il campo vettoriale emiltoniano associato all'emiltoniana che si ottiene con la trasformazione stessa quindi h tilde la troviamo facilmente ok buttando dentro il cambio di variabile trovando il campo emiltoniano con la regoletta che abbiamo visto prima di h tilde la regoletta era questa questa qua con questa regoletta qua con h che stavolta sarà h tilde ok otteniamo x di h tilde ma questo non è un campo vettoriale che non c'entra niente col campo vettoriale di partenza ma esattamente quello che si chiama il coniugato di xh tramite la trasformazione fi ok questa era solo una cosa un po più tecnica ma che comunque fa vedere l'importanza delle trasformazioni canoniche e del presser di come sia possibile preservare la natura emiltoniana di un sistema bene questo video non so bene per per chi possa essere perché comunque per poter essere seguito tutto visto che non ho approfondito granché i vari dettagli quantomeno uno deve averla già vista questa cosa e devo ammetterla quindi probabilmente è più utile a me che ho ripassato questi concetti che a chi sta vedendo il video però vabbè spero comunque di avere incuriosito chi non conosce gli argomenti e magari è rimasto a guardare il video fino alla fine ad approfondire questi argomenti o a studiare comunque qualche qualche nome qualcosa che ho nominato e se può interessarti una qualunque cosa che magari non hai capito o che vorresti capire meglio siccome a me cioè a me serve comunque approfondire le queste cose lasciami senza alcun problema un messaggio su instagram o un commento al video dicendomi vorrei che tu approfondissi questo e io appena posso preparo un video su quello così anche se è un qualcosa che magari non so bene ve lo vado a vedere che comunque qualcosa che mi interessa e voglio voglio capire meglio anche personalmente no bene ti ringrazio ancora per aver visto il video fin qui se l'hai fatto ti ringrazio un sacco iscriviti al canale se può farti piacere condividi il video con i tuoi amici se pensi che possa piacergli e niente ci vediamo al prossimo video ciao